Ciao, sono Paolo Brada e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, ti ricordo che se ti va puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e seguirmi anche sui social. Buona visione e ricordati di condividere il video. Dopo un po' di utilizzo, soprattutto magari tagliando anche diversi materiali, è normale che le nostre lame incominciano a tagliare poco o addirittura non taglino più. Oltre a questo, poi magari fanno anche del fumo durante il taglio e bruciano il legno. Questo succede perché ovviamente il filo dei taglienti dei singoli denti non è eterno ed è normale che dopo un po' vada riaffilato. Per affilare la lama ho deciso di rispolverare un mio vecchissimo progetto, quello che inizialmente era il mio tornio per legno utilizzando il trapano, che poi si è trasformato in uno strumento multiuso. Se non avete visto i video ve li metto e andatevi a vedere, mi raccomando. Anche perché sono importanti per capire un po' come ho bloccato il trapano in questa posizione. Inizierò andando ad aggiungere degli spessori in legno per creare un supporto. Come potete vedere nel madrino del trapano è inserito questo dischetto diamantato che è quasi indispensabile per affilare questo tipo di lame. Questo in uno specifico è per mini trapano o Dremel, che dir si voglia, che è un po' più famoso. Ovviamente ne esistono di più grandi, ma vi lascio il link in descrizione per l'acquisto. Ne esistono anche per smerigliatrice angolare. Un esempio potrebbe essere questo. Infatti una variante di questo jig per affilare potrebbe essere fatto con la smerigliatrice angolare. Io momentaneamente voglio provare a farlo così perché mi occupa meno spazio, cioè utilizzo qualcosa di già presente nel mio laboratorio e lo vado semplicemente ad accessoriare in modo da poter fare quello che mi serve. Se vedo che non mi convince, magari passo a quello con la smerigliatrice. Quello che ho deciso di fare è prendere questa guida che è stata riciclata da un monitor LCD. Questo è semplicemente il meccanismo per regolare l'altezza del monitor. E cosa ho fatto? Ora è tutto ancora molto provvisorio. Ci ho avvitato comunque la lama spessorandola in altezza in modo da poter raggiungere l'altezza desiderata. La lama non è completamente bloccata, poi andrà stretta in modo da comunque poterla girare e quindi poter fare questo movimento in avanti e indietro man mano che vorremmo affilare il dente. Il tutto verrà fissato in modo da stare fermo. Si azionerà il trapano e si farà questo movimento in modo da far andare a contatto il dente della nostra lama con il disco diamantato. Quindi adesso faccio due fori dove poi andrò a evitare queste viti e terranno il supporto fermo. Ed ora andiamo a bloccare la guida con un'altra asse da sopra. Una volta ben strette le viti che bloccano la guida in posizione ovviamente me la sono regolata in modo da trovarmi perpendicolare al dischetto diamantato. Qui ho smussato un po' in modo che non andasse a dare fastidio il disco con il blocco del trapano e quindi senza problemi è tutto ben fermo. L'unica cosa che si muove è la guida avanti e indietro e il nostro disco da affilare. Quindi ora non dobbiamo fare altro che far partire il trapano e possiamo affilare tutti i denti. Semplicemente passiamo tutti quanti i denti della lama e abbiamo fatto questo per quanto riguarda le lame delle troncatrici per esempio o nel caso per dire della circolare che abbiamo visto poco fa che il tagliente del dente è in una posizione leggermente diversa come si vede qui è dritta invece qui è inclinata andremo a spostare semplicemente la nostra guida la inclineremo e poi andremo a ristringere le viti e la incliniamo quel tanto che basta per riportarci dritti al nostro disco diamantato e come primo facciamo partire il trapano e andiamo a rifare tutti quanti i denti. Una volta passati tutti semplicemente andiamo a svitare il nostro disco nella sua postazione non penso che si veda purtroppo l'affilatura che è stata fatta diamo una passata col disco abrasivo quindi siamo andati a rimuovere anche un po' tutti i residui di bruciatura che c'erano sul disco che sicuramente non aiutano lo scorrere del disco del legno e ora andiamo a rimontarlo stessa asse di prima proviamo a ripetere il taglio direi che è migliorabile forse qualche dentino poteva essere affilato meglio però direi che rispetto al taglio che avevamo fatto prima c'è una gran bella differenza la differenza si notava molto anche da come la lama scorreva subito nell'asse senza difficoltà cosa che prima almeno io che avevo la sega in mano sentivo opporre molta resistenza sicuramente noi siamo di fronte a qualcosa di professionale ma considerate che portare ad affilare una lama da un professionista costa magari anche sui 20-25 euro quando magari una lama nuova ne costa 30 o forse anche 20-20 euro a questo punto conviene riaffilarla da noi finché si riesce e quando l'abbiamo riaffilata quelle 3-4 volte la cambiamo e ricominciamo da capo ovviamente ogni consiglio per migliorare questo jig è bene accetto non mi sembra funzioni male magari c'è da stare attenti un pochino quando si fanno le passate sui denti di farlo in modo uniforme ma a parte quello mi pare che il sistema funzioni alla grande quindi adesso direi che vado avanti ad affilare qualche altra lama e voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti direi che non è affatto male per una filatura fatta in casa anche questo video è terminato fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti un mi piace la condivisione e l'iscrizione al canale sono più che graditi se volete potete seguirmi anche su facebook twitter e instagram grazie a tutti